Onorevole Giulia Sarti, di nuovo grazie, onorevole, un giudizio anche a lei su quanto accaduto e su uno Stato che evidentemente non c'è in maniera sufficiente a Ostia. Esatto, ricordiamo che la situazione di Ostia non è così da oggi, è così purtroppo da troppi anni e quindi l'episodio gravissimo che anche noi abbiamo immediatamente condannato è purtroppo lo specchio di una situazione di degrado che avanza da troppi anni. Ricordiamo che l'ex Presidente del Municipio era del Partito Democratico, è stato coinvolto in Mafia Capitale, quindi comunque la gestione di Ostia e le amministrazioni precedenti hanno fatto, purtroppo hanno dato la possibilità ai clan di continuare a esercitare il loro controllo sul territorio. N'è vero che la mafia si combatte con la buona amministrazione, io aggiungo la prevenzione e dico anche che per sabato abbiamo convocato una manifestazione ad Ostia senza colore politico, senza alcun tipo di intenzione di voler mettere bandierini o che, è semplicemente un invito a tutta la cittadinanza ad esserci per far sentire la presenza dello Stato e per far sentire la presenza della legalità e di una politica che certo avrà il ballottaggio nella tornata che ci sarà il 19, ma che deve riportare le persone ad aver voglia di andare a votare e quindi di esercitare quello che è un indiritto e un dovere importantissimo. Spero che vengano anche gli esperienti di Fratelli d'Italia. Un attimo, un attimo, un attimo cortesemente. Sesso Roberto Spada ha manifestato simpatia per il Movimento 5 Stelle qualche tempo fa. Noi abbiamo già detto, non solo che non ci rappresenta in alcun modo Roberto Spada e può dire quello che vuole, ma con noi non troverà mai spazio. Abbiamo detto che i loro voti non li vogliamo e quindi rifiutiamo, e lo abbiamo detto apertamente, in più occasioni e manifestazioni. Il sindaco Raggi lo ha detto fin dalla campagna elettorale per le candidature al Comune di Roma. Quindi è da tempo che noi prendiamo le distanze. Spada può fare quello che vuole, ma con noi non trova spazio, non lo troverà mai, perché abbiamo già delle regole che vietano a persone come lui di anche solo presentarsi e candidarsi con il Movimento 5 Stelle. Quello che abbiamo detto, oltre a dire esplicitamente che rifiutiamo i voti, cosa che vorremmo vedere anche da parte delle altre forze politiche, è semplicemente la richiesta di una presa di posizione da parte di Fratelli d'Italia di distanza da Casa Pound. Perché è normale che la voce di un partito che è vicino alla destra, estrema, e che anche si distingue, deve farsi sentire in maniera preponderante in questo caso. Lei è anche per il Movimento 5 Stelle componente della Commissione Antimafia. Le chiedo, ma non era meglio continuare con il commissariamento a questo punto? Non si può per legge, il commissariamento è già stato prorogato una volta, quindi non si poteva continuare. Quello che deve fare la politica è molto importante. Io penso che invece questa sia un'occasione veramente fondamentale per cercare di riportare anche con la buona politica la legalità ad Ostia. Questo deve essere un appello accorato a tutte le forze politiche. Condivido il fatto che certi episodi non si debbano strumentalizzare. Questo è un momento in cui per Ostia tutti dobbiamo fare la nostra parte. Le forze dell'ordine, la magistratura, la politica, e tutte le forze politiche messe insieme che vogliono in qualche modo ripristinare la legalità. Dico però soltanto un'ultima battuta. Devo chiudere. Alla prossima. L'amministrazione di Ostia merita tutta la legalità possibile. Grazie ancora, Onorevole Sarti.